Torna per la sedicesima edizione la festa del libro di Montereggio in Lunigiana, una tradizione legata alla storia dei librai di questo piccolo borgo montano che partirono nell'Ottocento per diffondere la cultura in tutta Italia. La kermessa dedicata al libro che animerà Montereggio dal 24 agosto al 1 settembre è stata presentata nella sede della regione toscana dalla vicepresidente Monica Barni, dal sindaco di Mulazzo Claudio Novoa e da Gianni Tarantola, presidente del premio Bancarella. La presentazione della festa del libro è stata anche l'occasione per Mulazzo di firmare il patto regionale per la letteratura. Il nuovo comune che si unisce al patto per la lettura che stiamo lanciando, cominceremo a lavorare su questo tema da settembre, proprio perché c'è bisogno di una spinta ancora più forte e di un'alleanza per far sì che la lettura diventi un'abitudine sociale quotidiana nella nostra regione. Alla festa del libro di Montereggio saranno numerosi di incontri con gli scrittori come Antonio Padellaro, Paolo del Debbio, Ferruccio De Bortoli e molti altri. Ma soprattutto è un momento piacevole per cercare di valorizzare un bene culturale che è rappresentato dal libro, dal libro raro d'occasione, dal libro che naturalmente in tanti casi non ha avuto il successo che meritava, ma che naturalmente grazie a questo circuito di cui Montereggio ne fa parte, che è il circuito internazionale dei paesi del libro, naturalmente vuole cercare di affermare un turismo, ma anche la valorizzazione di un bene culturale che è rappresentato dal libro e dalle storie che riesce a raccontare. Grazie a tutti.